Benvenuti nella nostra cucina. Oggi prepariamo l'endiva medievale medievale con il porco, da l'Observazione Ciborum, scritto nel 6o secolo dal fisico bizantino Antimus per il re dei Franci. Iniziamo con gli ingredienti, necessitiamo l'endiva, il porco curato e il vinagre di vino. L'endiva e la ciclori sono chiamati in tuba, in latino, con varie 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 varie. Nell'antiquità ci sono varietà di wilde e coltivate, e coltivate in la stessa forma che il lettuce. Nell'area del Re Coquinaria, il lettuce è consigliato nel vero e nel tubo, nel vento. I due vegetabili sono sbagliati con l'olio, l'olio e l'olio, o con una salsa, o con l'olio e il vinagre. È più o meno la raccomandazione che Galen dà nel Facultatibus Alimentorum per il lettuce, che si considera simile a l'endiva. È sbagliato, ricocato o rodo, con olio, garum e vinagre, o con una salsa basata su cheese. Sbagliamiamo il giulio del porco curato e lo cuociamo in una pancia. Se preferite, usate il cuore del porco curato o il cuore del porco, l'ingrediente originale, consigliato da Antimus. L'autore scrive che la simerazione è la forma più alta di cuocerlo, ma è anche roostata o frata. Se roostiamo il grasso, si tratta secolo e difficile per digerirlo, inoltre con l'autore. Quindi preferivamo usare una pancia per collezionare il grasso, che Antimus considera un buon sostituto per l'olio di olio. Antimus non ci ha dato direzione per l'endiva, tenendo a conto che è comunemente sbagliato nella forma tradizionale. inoltre suggerisce l'endiva per tanto i sbagliati e i sbagliati, scrivendo che dovremmo esposare l'endiva al sole per un giorno, dopo averla sbagliato, se consumiamo il grasso. Lattus, invece, dovrebbe essere sbagliato immediatamente. L'Observazione Ciborum è una delle poche storie medievali sui alimenti scritti in latino. Un fatto che aiuta la diffusione in Europa, rendendo un articolo fondamentale per capire un periodo inoltre obscurso, e soprattutto la transizione dalle tradizioni mediterranie antiche mediterranie alla cucina medievale. Il corso di questa trasformazione è registrato in Antimus, in cui troviamo l'origine di un'importante cambiamento culturale, la perdita progressiva del garum e l'introduzione delle fatte animali, in particolare il grasso di carne, in cucina di acqua, invece di olio di oliva, utilizzato principalmente nei giorni legati per risorse religiose. Nella Roma, le fatte animali sono comuni tra le classi basi, ma sono absente nella Recoquinaria. Per alcuni esempi, guardate le ricette per Pulsfabata e Globbi nella descrizione sotto. il grasso di carne, in particolare, è uno dei più importanti ingredienti della cucina medievale e non aggiungere l'olio di oliva, ma anche il garum, grazie a sua sabidità. Nella nostra preparazione abbiamo usato il grasso e il vinagre invece di oliva, il garum e il vinagre, trasformando un salato in una medievale per un semplice passaggio che può essere usato con molte ricette antiche. Per sapere più di questa strada, leggere il nostro libro L'Observazione Ciborum di ricette medievale al Corso dei Franci trovate il link nella descrizione sotto. Per sapere più di questa ricetta storica, guardate la nostra pagina Patreon, in cui trovate articoli e le tradizioni delle storie antiche e medievale. Per più informazioni sull'uovo antiche, leggere l'Observazione Ciborum per la cucina medievale per la cucina medievale mi raccomandiamo Libro della cucina Medieval Tascana per la cucina medievale per la cucina medievale per la cucina medievale. Per sapere più sulle ricette e la cucina storica leggere le ricette italiane di ricette, frutta, erbe e fiume. Per supportare il nostro lavoro puoi anche comprare una piazza e comprare il nostro mercantino. Trovate tutti i link nella descrizione sotto. Abbiamo scimmato la dentiva per un paio di minuti, poi lo trattiamo con un grattino di grattino dal giallo di porco e il vinagre e lo serviamo con il giallo di porco. Questa salata di dentiva aumentata dalla fatta del giallo di porco era semplicemente deliziosa. Come una variante vi suggeriamo aggiungere ucina medievale o, ancora meglio, ucina medievale o salata considerata meglio che ucina da Antimus. Trattare questa salata con una variazione su Columella sarebbe interessante. Mettere le erbe aromatiche per provare il pepe e il vinagre e sostituire l'olio di oliva con il fatto smettato. Nel caso usate il cuore fresco e si guida a una consistenza per evitare o ridurre la quantità di pinnucci. Un'altra opzione è preparare l'ipotrimma riportata nella Recoquinaria. Nel caso vi consigliamo di semplificare la ricetta per esempio utilizzare solo uno smettato tra ucina riduzionale risotto e dati. Con uno ingrediente tra il vinagre e il vino smettato invece di garum e oliva un po' di pinnucci e ucina fresco fresco vedete i link alle ricette nella descrizione se siete interessati in alimenti e sabori antichi suscritti al nostro canale e considerate supportarmi su Patreon alla prossima al prossimo mi vi 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 vi